Ciao Jessica, è il primo anno che sei qui a Brescia, ma hai già giocato praticamente mezza Europa, in Spagna ovviamente, Germania, Turchia. Sai raccontarci qualche piccola differenza tra le varie azioni, sia a livello culturale sia a livello sportivo? Allora, a livello culturale ogni paese è diverso, però quello che mi ha colpito di più è la Turchia. Per cominciare è che pregavano alle 5 di mattina, lo sentivo dall'alto parlante in strada, questa cosa mi ha sciocato un po'. Poi il cibo ovviamente è diverso e la gente sportivamente sono molto diversi, soprattutto in Italia perché la pallavolo si vive in un'altra maniera, è come il calcio diciamo in Spagna e questa cosa ci piace perché il tuo sport è molto seguito dalla gente e quello fa piacere. Ogni paese ha qualcosa di diverso, non so in Germania che il sole non c'era più alle 4 di pomeriggio e questa cosa era molto… Per una Spagnola come te soprattutto. E per non farti mancare nulla hai anche due passaporti, quello cubano e quello spagnolo. Cosa ti ha fatto scegliere di far parte della nazionale spagnola e qual è l'elemento che ti fa sentire questo senso di appartenenza? Allora io mi sono trasferita in Spagna quando avevo 4 anni, quindi ero piccola e non giocavo a pallavolo. Ho cominciato a giocare con la nazionale juniores quando avevo 12 anni, quindi non ci avevo neanche pensato a giocare con Cuba e ho avuto delle esperienze bellissime e io praticamente sono spagnola perché sono cresciuta là, quindi io mi sento proprio spagnola. E come vivi l'impegno sia in nazionale sia con la Serie A, questo doppio impegno, come lo vivi? È molto duro perché non c'è tempo praticamente per nulla, non c'è tempo per vedere la tua famiglia, amici e la vita che ho scelto ovviamente arriverà a un punto che psicologicamente e fisicamente sarò molto stanca, però ora sono in un periodo che voglio vivere questa esperienza al 100% e stare con la nazionale al 100%. E cosa si prova a scendere in campo con la maglia della propria nazionale? È una cosa bellissima perché durante l'anno si lavora con la società, la chiamata della nazionale è un bonus di tutto quel lavoro che hai fatto durante l'anno, anche perché si gioca contro le migliori di ogni paese, quindi a livello è molto alto, si può imparare tantissimo di ogni partita con la nazionale. E poi giocare un europeo, un mondiale, le olimpiadi è un'esperienza unica e bellissima. Grazie, hasta pronto. Ciao a tutti.